il ventus inter 1 a 1 pareggio nella prima partita delle due di semifinale di coppa italia ma soprattutto l'ennesimo episodio increscioso e vergognoso al termine della sfida protagonista purtroppo è anche il razzismo nei confronti in questo caso di romelu lukaku intorno a questo episodio si sono scatenate una serie di polemiche e anche di conseguenze sportive e non che proveremo in questo contenuto a riordinare dicendo anche un po la nostra opinione si siamo presi ovviamente delle ore per riflettere per valutare bene tutto quello che è emerso anche nel post partita e non solo è uscito anche un comunicato ufficiale dell'inter è uscito un comunicato della lega serie a è uscito un post direttamente di romelu lukaku un post dell'agenzia che ne cura l'immagine diciamo rock nation e più tutta una serie anche di altre altri messaggi di incoraggiamento di sostegno da parte di giocatori e in generale persone diciamo intorno al mondo del calcio mettiamola così cominciamo subito ho tantissime cose da mostrarvi e non parlerò della partita dal punto di vista tattico l'abbiamo fatto già ieri sera lo faremo probabilmente anzi sicuramente anche nella diretta di stasera delle 19.30 oggi credo sia corretto concentrarci e focalizzarci solo su quello che è successo dal minuto 93 fino di fatto a questa mattina cosa è successo in campo al minuto 93 viene fischiato un calcio di rigore netto per l'inter per un fallo di mano di bremer e qui apro già una parentesi perché ho ascoltato alcuni anche giornalisti ma non solo giuventini che nel racconto dalla partita pur dicendo che il rigore c'era hanno infilato discorsi e frasi come e figurati se non glielo danno dopo quello che è successo in campionato ma di che figurati se non glielo danno di che il rigore c'è il rigore viene dato che cosa significa questa frase chiudo parentesi quindi rigore netto fallo di mano corretto segnalato dall'arbitro massa anche con un paio di secondi di ritardo ma vabbè al minuto 94 lukaku quindi in quei secondi va sul dischetto calcio il rigore spiazza per in e porta il risultato sull'1 a 1 e lukaku vi condivido per chi ci segue da youtube fa questa esultanza quella che vedete nel riquadro sotto lo questo screen l'ho preso da twitter non ho capito chi sia l'autore però in ogni caso lo trovate ovviamente anche con facilità sui social l'esultanza della serata di ieri di lukaku è quella sotto l'esultanza che vedete sopra è quella di un gol realizzato dallo stesso lukaku con la maglia del belgio questo a testimoniare che cosa a testimoniare che questo gesto che lukaku fa è diventato da qualche tempo a questa parte parte della sua effettiva esultanza quindi è un tipo di gesto che lui replica recentemente ogni volta che fa gol dito davanti alla bocca e saluto militare diciamo così con l'altra mano da qui si accende immediatamente un parapiglia perché tanti giocatori dell'inter gli saltano addosso per esultare lo abbracciano e della juventus si avvicinano danilo e quadrado in particolare che danno il via ad un parapiglia appunto senza particolare ragione perché ribadisco l'obiettivo di lukaku non era quello né di provocare né di stigare nessuno stava esultando per il gol che ha fatto e che ha permesso all'inter di pareggiare la partita ne nasce un parapiglia parapiglia dal quale l'arbitro massa che inizialmente se voi guardate i video non sembrava intenzionato a fare nulla rispetto a questo che a tutto ciò che stava accadendo dopo qualche secondo lukaku tra l'altro è uno dei primi ad allontanarsi a tornare verso il centro del campo massa lo raggiunge gli estrae il secondo cartellino giallo e lo espelle la motivazione tecnica diciamo regolamentare è relativa all'esultanza che lukaku appunto ha fatto vi condivido anche qui lo schermo con il regolamento il regolamento dice che un calciatore deve essere ammonito anche se la rete non viene convalidata se si avvicina gli spettatori in modo tale da causare problemi di sicurezza e o l'incolumità e o per l'incolumità e o si arrampica sulla recinzione oppure agisce in modo provocatorio o derisorio questi sono i due diciamo le due casistiche che più si avvicinano a quello che avrebbe fatto lukaku secondo massa ed è un errore lo ribadiamo perché lukaku non stava provocando nessuno e non stava agendo in maniera derisoria nei confronti di nessuno stava facendo la sua esultanza che più di una volta anche recentemente abbiamo gli abbiamo visto fare su altri campi e con altre maglie quindi il giallo per esultanza provocatoria è sbagliato da lì poi la partita continua per altri secondi pochi secondi fischio finale si accende un nuovo parapiglia nel corso di quei di quei secondi e il focus si sposta su altri due protagonisti quadrado sempre lui ancora lui e samira andanovic qui ci sono dei video che mostrano inizialmente i due che dibattono in maniera abbastanza animata ma tutto sommato civile facendo valere le proprie ragioni o quanto meno provandoci ma senza andare oltre le righe dopodiché si vede che quando i due stanno per allontanarsi quadrato da una sorta di spintone ad andanovic facendogli anche così con la mano andanovic si arrabbia perché fino a quel momento la discussione ripeto era rimasta nel recinto della civiltà mettiamola così quindi risponde con uno spintone molto simile si avvicinano altre persone anche degli staff e poi quadrado fa questa cosa anche qui vi condivido l'immagine chiaramente qui sarebbe meglio avere il video e ripeto sui social lo trovate con facilità noi per ragione di copyright non possiamo mostrarlo vedete che colpisce andanovic qui voglio dire una cosa in tanti hanno detto quadrado da un pugno ad andanovic unendo questa espressione a questo fotogramma chi non ha visto le immagini si immagina che luca che quadrado abbia scagliato un destro in faccia ad andanovic non è esattamente così grave nel senso che il colpo arriva però è molto lento e comunque avendo anche su credo un guanto la mano non si capisce se sia chiusa oppure no comunque gli rifila un colpo questo è abbastanza evidente e chiaramente andanovic da questo punto di vista si e da questo momento si si arrabbia ancora di più e la questione prosegue quindi quadrado che insieme a danilo da il via ad un parapiglia immotivato ed ingiustificato subito dopo il gol di lukaku quadrado che da il via ad una discussione che supera i confini della diciamo della normalità della civiltà perché prima da uno spintone per primo ad andanovic e poi lo colpisce con questo colpo proibito mettiamola così alla fine quali sono i provvedimenti quindi come si chiude la vicenda si chiude con la munizione a quadrado contestualmente all'espulsione a lukaku che era già munito per un fallo precedente quindi è stato espulso e poi una successiva ulteriore provvedimento nei confronti sempre di andanovic cioè scusate sempre di quadrado e di andanovic entrambi espulsi l'inter chiude quindi con due espulsioni la ventus con una peraltro dal punto di vista prettamente sportivo la squalifica di quadrado scattava già dopo il giallo perché era diffidato quindi l'espulsione non sposta praticamente nulla mentre l'inter si ritrova con due giocatori che salteranno la semifinale di ritorno e poi vediamo se si avrà la brillante idea di aumentare ulteriormente il numero di giornate in modo tale da creare problemi anche nel caso di un eventuale finale poi arriva il post partita nel post partita danilo e perin ancora danilo e perin vanno ai microfoni e chiaramente i giornalisti chiedono una loro opinione rispetto a quello che è successo e loro dicono che la decisione dell'arbitro è stata corretta e uno dei due non ricordo forse perin dice è stata una decisione facile perché si vede lukaku che palesemente provoca la curva e quindi il giallo è assolutamente corretto altra cosa lo ribadiamo falsa assolutamente falsa nell'inter l'unico che si presenta a parlare davanti ai microfoni con mia personale ma mi pare di aver capito anche condivisa condiviso rammarico e simone inzaghi io mi aspettavo che almeno qualcuno della dirigenza potesse presentarsi senza dire chissà che cosa anche solo per per far vedere che è una serata diversa dal solito motivo per cui ci si presenta invece rimane solo inzaghi che con i consueti toni anche abbastanza sobri dice che di fatto lukaku è stato frainteso l'esultanza è stata fraintesa e da qui ne nasce il problema poi tra l'altro inzaghi cita anche il certo caso lukman che a sua volta il 9 di ottobre se non erro era stato ammonito nella gara contro l'udinese da doveri se non erro perché aveva esultato con la sua esultanza canonica che è quella così lukman gioca molto su questo su questo nome ed era stato ammonito perché anche lì la sua esultanza era stata ritenuta provocatoria si era poi chiarito come non fosse così ma qui inzaghi sbaglia perché la l'ammunizione a lukman non venne tolta diciamo si arrivò a chiarire l'equivoco ma l'ammunizione rimase quindi temo purtroppo che anche l'espulsione l'ammunizione che ha generato l'espulsione di lukaku rimarrà costringendoci a non avere big rom per il ritorno poi sempre nel post partita emergono anche i primi video che come sempre compaiono da twitter da tiktok eccetera rispetto a insulti e bu razzisti che provengono dalla curva della juventus e dietro davanti alla quale lukaku stava per calciare il rigore e il sentore che in tanti avevano avuto sul momento viene confermato perché poi c'è anche un momento in cui si vede lukaku che dice qualcosa alla curva probabilmente dice la parola muti sembra di capire questo e si era anche quindi capito che forse stavano partendo degli insulti magari anche a sfondo razziale non è la prima volta e come dicevamo anche in diretta giocatore dell'inter che calcia un rigore al 94esimo allo stadium sotto la curva ci avrei messo la mano sul fuoco rispetto all'arrivo di insulti poiché fossero razzisti o meno chiaramente andava stabilito mi pare di aver capito che sia stato confermato poi ignoro totalmente una storia su instagram del fratello di rabiot che avrebbe fatto meglio tacere ma proseguiamola cito perché poi fanno volume tutte queste tutte queste prese di posizione anche abbastanza ridicole da parte di di alcuni di alcuni protagonisti o non e poi arriva come vi dicevo il post social dell'agenzia rock nation che è l'agenzia che cura gli interessi di e l'immagine di romelu lukaku questo è il post che arriva nella tarda serata di ieri da parte di rock nation che sostanzialmente scrive gli atti razzisti che hanno visto come bersaglio lukaku a opera dei tifosi della juve non possono essere accettati romelu ha segnato un rigore nel recupero prima durante e dopo è stato oggetto di insulti razzisti ostili e disgustosi romelu ha festeggiato nello stesso modo in cui aveva festeggiato i gol in precedenza e quindi giustamente viene fatta anche questa specifica la risposta dell'arbitro è stata di ammonirlo romelu merita le scuse della juventus scrive rock nation e ci aspettiamo che la lega condanni immediatamente il comportamento di questo gruppo di tifosi della juventus le autorità italiane devono utilizzare questa opportunità per contrastare il razzismo piuttosto che punire la vittima siamo certi che il mondo del calcio condivida lo stesso sentimento questo è quello che afferma rock nation e poi in chiusura di questo post partita molto animato al di là di qualche anche qui opinione piuttosto pittoresca di alcuni giornalisti che parlavano di un lukaku nervoso per quella che è la situazione interna all'inter cioè buttiamo le cose in bacca tanto fa nulla di quali che rispetto a quelli che sono i temi reali buttiamo cose a caso senza sapere così facciamo fumo e contribuiamo a incasinare la situazione vabbè la juventus poi in via ufficiosa fa sapere che individuerà i responsabili di questi burazzisti e li allontanerà dallo stadio e questa è una cosa molto positiva che che venga fatta ecco è doveroso a prescindere dai colori veniamo questa mattina il contenuto mi sta prolungando ma sono tante come avrete capito le cose da dire innanzitutto stamattina tutto sport due chicche la prima lukaku andava espulso prima però prima per il fallo su gatti quel fallo in cui lui invece viene ammonito e quel giallo è proprio quello che sommato al secondo diciamo incriminato ne causa l'espulsione secondo tutto sport non poniamoci il problema andava espulso prima e certo e figuriamoci e quindi questo è il loro punto tutto sport che poi nella pagella di ma dalla partita di massa il voto che dà all'arbitro è 5 e la motivazione è si fa sfuggire la gara di mano quando è troppo tenero con lukaku e dopo aver tollerato per tutta la partita le insostenibili proteste interiste porca miseria guardate guardate leggero con lukaku e le insostenibili proteste interiste va bene che peccato poi arriva il comunicato dell'inter appunto e qui cito quello che è il parere di molti tifosi che ho letto in giro sui social parlano di parlano di comunicato un po troppo morbido è quello che vedete in sovraimpressione ve lo leggo siamo fratelli e sorelle del mondo dal 9 marzo 1908 e questa la nostra storia scrive l'inter vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari condivisi che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa italia a torino juventus inter per questo per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio il nostro affetto e la nostra solidarietà a romelu lukaku come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore forza rom siamo con te questo il comunicato che in mattinata pubblica l'inter a cui poi fa seguito anche un comunicato direttamente della lega serie a anche qui lo leggiamo insieme appena riesco a recuperarlo eccolo qua il titolo è fuori razzisti dagli stadi e la lega serie a condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio che per fortuna condividono i valori più alti dello sport le società di a come sempre hanno fatto sapranno individuare i colpevoli escludendoli a vita dai propri impianti e quindi anche qui poi la chiusura insomma nulla di particolarmente memorabile insomma per come la vedo io e poi vado veloce arriva anche un post instagram come vi dicevo di romelo lucacu che con la sua esultanza in bella vista in foto lucacu scrive la storia si ripete è già successo nel 2019 e adesso ancora nel 2023 spero che la lega possa prendere delle azioni reali questa volta perché questo bellissimo gioco dovrebbe essere diciamo gustato apprezzato da tutti grazie per i vari supporti e lo slogan fuck racism che che conclude il messaggio e poi ultimo post è quello di danilo che era stato appunto criticato anche giustamente per le dichiarazioni sbagliate che ha rilasciato a caldo danilo sui suoi social che diffonde questo messaggio scrivendo il razzismo è un argomento troppo serio per essere trattato in maniera superficiale io sono antirazzista e qualsiasi atto di questo genere deve essere duramente condannato sono d'accordo con danilo mi fa piacere che lo dica bisognerebbe puntualizzare che la superficialità nell'aver trattato l'episodio è stata in premissa di danilo stesso e del suo compagno per in che ha caldo nel post partita invece che piuttosto di dire quelle cose che hanno detto rimanere magari sul vago dicendo non lo so non ho sentito se ci sia stato qualche qualche cosa dalla curva eccetera ha preferito schierarsi apertamente dicendo no ma l'arbitro ha fatto bene l'esultanza era provocatoria ecco la superficialità che giustamente danilo ritiene sbagliata quando si devono giudicare questi episodi purtroppo è stata di danilo stesso in questo caso e anche questo è bene specificarlo veniamo alla mia opinione e anche al discorso regolamentare allora il l'analisi sull'esultanza provocatoria o meno ve l'ho già mostrata e penso sia abbastanza evidente che questa esultanza è tutto tranne che provocatoria ed è tutto tranne che passibile di un cartellino giallo visto quello che che è il contesto giustamente in tanti si sono chiesti ma quindi a questo punto l'espulsione di lukaku può essere tolta la risposta è no nel senso che al al 90 per cento al 95 per cento l'espulsione purtroppo rimarrà io non credo che ci sia nel regolamento uno specifico passaggio che chiarisca apertamente la dinamica che abbiamo vissuto ieri che peraltro ripeto non è la prima volta che si vede su un campo e non credo appunto che si possa fare qualcosa a livello sportivo chiaramente cominciamo col dire che quando si tratta di razzismo si tratta di episodi di questo tipo che adesso giustamente si stanno espandendo con i vari comunicati di rock nation di lukaku il sostegno da parte di tanti altri calciatori non solo è chiaro che l'aspetto sociale e l'aspetto umano va al primo posto l'aspetto di condanna di questo di questi atti e di solidarietà nei confronti del ragazzo peraltro apro e chiudo parentesi stanno iniziando a circolare anche dei video sempre dai social in cui si sentono anche dei cori offensivi e razzisti contro geco che viene chiamato zingaro di eccetera eccetera in quel momento in cui geco è stato ripreso più volte va sotto la curva dell'inter a indicare allo stemma e a incitare i tifosi tra l'altro stesse espressioni ingiuriose stesse frasi che mi pare alla spezia vennero rivolte ad un giocatore della juventus che era kostic e che giustamente erano state condannate da dall'opinione pubblica ecco quindi purtroppo poi muovendoci ripeto dal punto di vista sportivo che è un po quello che chiedevano in tanti non credo che la squalifica e l'espulsione quindi di lukaku si possa togliere e dal mio punto di vista questo è scandaloso è vergognoso perché un paese civile e una la volontà diciamo più lucida e migliore anche dal punto di vista umano oltre che sportivo con cui affrontare questo episodio per come la vedo io sarebbe proprio eliminare questo provvedimento che massa ha deciso in maniera sbagliata e l'abbiamo confermato da mille punti di vista in modo tale da consentire a lukaku di non dover pagare per un qualcosa che non ha fatto perché lukaku viene espulso per un'esultanza che non è provocatoria ripeto quindi potremmo fermarsi già solo qui nel dire che è un giallo sbagliato ed è un giallo interpretativo cioè l'ammunizione qui arriva perché l'arbitro interpreta questa esultanza come provocatoria non è un non so step on foot piede su piede da regolamento cartellino fallo e cartellino giallo lì è codificato qui è una cosa che di fatto è soggettiva nei confronti dell'arbitro lo interpreta lui e l'ha interpretato in maniera palesemente sbagliata non perché il gesto sia ambiguo ma perché appunto c'è già stato un precedente come per lukman che conferma che il gesto in esame non era provocatorio verso la curva ma era un gesto che lukaku fa quando esulta quindi già questo è una cosa qualcuno poi dice che appunto vedendo anche questo presunto labiale in cui lukaku urla muti alla curva magari un pizzico diciamo una coda di risposta nei confronti della curva è arrivata in occasione però lo voglio riguardare ancora chiaramente di un'esultanza che comunque sarebbe stata fatta perché è la sua esultanza quindi ipotizzando anche che una parte della motivazione sia per risposta ad una curva stiamo ammettendo che un giocatore che fa un gesto di questo tipo che non è un dito medio o insulto palese è un gesto di questo tipo nei confronti di insulti razzisti che sono avvenuti e c'è la conferma perché ci sono i video e anche la procura con i suoi uomini che erano presenti hanno segnato tutto quanto viene detto stiamo quindi dicendo che il giocatore che subisce questo episodio che è a tutti gli effetti la vittima di un episodio razzista è giusto che venga munito ed è giusto che venga sanzionato ovviamente qui poi lo juventino medio che ascolta dirà e tu lo dici perché sei interista va bene lo dico perché sono interista se andiamo un pochino oltre con ragionamento pochino oltre al proprio al nostro naso capiamo che è un discorso che va al di là del tifo e dei colori siamo di fronte ad un ragazzo che salterà una partita importante arrecando un danno a se stesso e alla sua squadra per un gesto che non era colpevole diciamo di essere provocatorio e derisorio e che peraltro è stato fatto in un contesto in cui stava ricevendo degli attacchi razzisti io credo che se volessimo dare una risposta per una volta civile e anche bella dal punto di vista proprio mediatico forzare questi regolamenti e queste queste cose tecniche che sembrano così dogmatiche e così chiuse non sarebbe così così negativo per come la vedo io ma la stessa cosa avrebbero dovuto fare al tempo con lukman anche se lì non c'erano diciamo contesti razzisti perché è un errore palese che magari può anche starci tutto sommato perché anche se mi sembra strano ci può stare che massa non avesse presente che quella era la sua esultanza però una volta che poi si accerta tutto e che ci si rende conto di quello che è il contesto e facciamolo un gesto una volta che vada un po al di là di quella che è la strettissima osservazione del protocollo e della regola del regolamento che poi in tanti altri casi invece soprattutto in italia viene bellamente ignorata e si procede in maniera diversa non lo so ripeto è un discorso che lascia un po il tempo che trova perché non credo che accadrà tutto questo e è un discorso ribadisco che verrà ovviamente associato al fatto che che io e chi la pensa come me sia sia interista svuotandolo un po di quello che è il suo senso però la risposta alla domanda eventuale che che potevate farvi è al 99 per cento no non verrà tolta la squalifica a lukaku e quindi non ce l'avremo nella semifinale di ritorno così come andanovic che è stato espulso in quei minuti chiudo con un messaggio conclusivo e mi scuso per la la durata del contenuto ma credo che fossero cose pesanti ed importanti sta diventando veramente insostenibile questa rivalità fra inter e juventus una rivalità tossica che comincia purtroppo da episodi di campo e anche extracampo avvenuti ormai tantissimi anni fa è una rivalità che come poche altre forse nessuna va sempre oltre il campo e il lato sportivo diventa sempre protagonista poi di questioni che vanno al di là di insulti molto pesanti anche fra le tifoserie bisogna fare qualcosa ragazzi cioè i tifosi non saranno i tifosi i primi a deporre le armi tra virgolette non accadrà e probabilmente questa rivalità continuerà ad essere insostenibile in questo modo però bisogna fare qualcosa non si può che pensare che ad ogni inter juventus juventus inter si debba arrivare a dei livelli che poi sembra che l'asticella venga alzata sempre di più arriverà a un punto in cui davvero non sarà un punto di non ritorno e comunque stiamo parlando di calcio stiamo parlando di due gruppi di persone più o meno numerosi che tifano uno per una squadra di calcio uno per l'altra squadra di calcio cioè non è accettabile che si arrivi a certi livelli a certi episodi in ambito di tifoseria diciamo così questo vale per inter juve vale per tutte nel caso specifico parliamo di inter juve dato che che è l'oggetto del discorso e visto che appunto una rivalità molto accesa e che mi piacerebbe che venisse un attimino diciamo ridimensionata che sia si abbassassero un pochino i toni lo dico perché mi sembrava giusto dirlo purtroppo sono abbastanza convinto che tutto questo non accadrà perché temo che la situazione rimarra questa mi scuso ragazzi se mi sono dilungato a lungo ringrazio tantissimo chi mi ha seguito fino a questo punto a questo proposito fatemi sapere anche nei commenti come la vedete cosa ne pensate vi aspetto appunto nei commenti iscrivetevi al canale se non l'avete fatto lasciateci anche un mi piace se siete d'accordo con con i messaggi che abbiamo voluto anche lanciare e poi ovviamente vi aspettiamo nel club www.passioneinter.club per continuare a parlarne le discussioni sono molto accese ovviamente e per entrare a far parte della nostra community infine per chi mi segue in podcast lo lascio in descrizione su youtube invece qui alla mia destra trovi il commento a caldo a livello anche di campo di juventus inter 1 a 1